Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare Star Saga, che abbiamo comprato non da tanto io e mia moglie, perché siamo veramente fanatici, e ve l'ho sempre detto, di Dungeon Saga, che attualmente è il nostro, insieme a HeroQuest, è il nostro Dungeon Crawler preferito, e visto che la Mantic si è ispirata particolarmente appunto ai vecchi giochi dell'MB della Games Workshop, hanno fatto la versione medievale e la versione futuristica che vedete qui davanti, che è Star Saga, ovviamente edizione originale in inglese della Mantic, e portato in Italia da MS Edizioni. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Star Saga viene definito il Dungeon Saga, spostato in un'ambientazione futuristica, e è giusto da una parte e da un'altra no. È giusto che ovviamente le regole, bene o male sono sempre quelle, le regole, vi ricordate come in Dungeon Saga, ciascun personaggio ha un'azione, perché il movimento non viene contato. Il movimento che fanno le truppe, quindi mercenari in questo caso, non vengono contate. Nell'azione uno si può muovere delle caselle elencate sulla scheda del personaggio e poi può attaccare. Ci sono i misuratori per misurare gittata corta, gittata lunga e cose del genere. Quindi comunque le regole principali di base sono le stesse di Dungeon Saga, però qui in questo Star Saga sono molto ampliate. Infatti poi ovviamente il cosa ne penso e il voto ve lo do alla fine, il parere personale, però se vi devo dire la verità, fino a oggi, come ho detto anche in una delle ultime domeniche ludiche, Dungeon Saga era il nostro dungeon crawler preferito prima di provare appunto Star Saga. Perché Star Saga, poi uno può preferire l'ambientazione fantasy e medievale rispetto a quella futuristica, non ci piove, io preferisco quella futuristica. Però a parte questo, hanno proprio portato avanti, hanno ampliato il discorso, hanno ampliato il comparto regole e forse hanno anche un po' colmato quelle lacune delle mancanze del manuale che aveva invece Dungeon Saga. E infatti una cosa che mi è piaciuta da morire, in Dungeon Saga, almeno che non abbiate il compendio dell'avventuriero, non potete assolutamente giocarlo in modalità cooperativa, ma ci deve essere sempre uno che fa il Dungeon Master. In Star Saga, nel regolamento di base e nella scatola di base invece ci sono già le regole per giocarlo con l'intelligenza artificiale, e quindi lo potete giocare sia col Dungeon Master, che qui si chiama Nexus, che anche appunto in cooperativa. Non ci sono le carte per giocarlo, ma anche delle regole speciali sul manuale per appunto gestire l'intelligenza artificiale dei nemici che andete a incontrare. Comunque, ve ne parlo a breve, prima di tutto, vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco, vedete, bella grande rispetto alla mano, bella spessa, il disegno che c'è sopra è veramente spettacolare, mi garba da morire. Le pedine sono veramente molto belle, qui vedete la squadra di mercenari che entrano all'interno di questa base e devono andare a svolgere varie missioni dove i mostri, ve l'ho detto, possono, secondo me, devono essere guidati da un altro giocatore che appunto fa il Dungeon Master e si chiama Nexus. Veramente molto bello, edizione italiana a cura di MS Edizioni. Apriamo. Regolamento di gioco, facile, anche questo qui molto chiaro, poi è pieno zeppo di disegni, ce n'è veramente un casino di esempi all'interno, quindi già la maggior parte delle pagine vengono portate via dai disegni e poi le regole sono veramente una cavolata. Se avete giocato a Dungeon Saga, non vi dico, lo potete esaltare, ma quasi. Il contratto Eiras, che è il libro delle missioni, che questo serve per fare il setup di tutte quante le missioni e in più, ovviamente, serve al giocatore che farà il Nexus per muovere i mostri. Un sacco di miniature, che vedete qua giù dentro ci sono gli eroi e poi tutti quanti i nemici che andiamo a fronteggiare e ce n'è veramente, ragazzi, un casino. Si passa da soldati a boss, a agenti, corporativi, c'è veramente di tutto e di più all'interno c'è uno sbotto di miniature. Elementi scenici 3D, una busta piena, zeppa di elementi scenici bellissimi, si va da scrivanie a terminali, addirittura librerie, c'è veramente di tutto. Un po' di segnalini da fissare sulle schede per tenere conto di varie cose, tipo punti feriti e cose del genere. Dadi, un megaboss, guardate qua, spettacolare. Carte, che ci sono tutte quante le carte dei personaggi e poi qui tutti i mazzi che possiamo trovare, che sono ovviamente le abilità, gli equipaggiamenti vari, perché poi un personaggio ha le proprie abilità, equipaggiamenti e le carte, quelle più grandi del mazzo del Nexus, che ci sono carte che lui può utilizzare per fare entrare in campo rinforzi o dare dei bonus, altre cose. In più ci sono in nero le carte evento. Sotto, come se non bastasse questa busta qui, ci sono anche le porte in 3D. Tra l'altro, bellissime, vi do un consiglio, se ci avete Nemesis, usatele, queste porte qui, per fare quando schiudono portelloni della nave. E poi tutti quanti i token e i tile di gioco che vanno defustellati. Vi faccio vedere un pochino le regole. Ho preso due personaggi prettamente differenti. Uno dalla distanza, un soldato, e uno un guerriero tipo da corpo a corpo. Le schede sono le stesse, identiche spiccicate di Dungeon Saga. C'è soltanto qui la colonna dell'esperienza. Comunque, nome del personaggio, figure e tutto quanto, punti ferita, che vedete, quelli verdi e quelli rossi. Classico, ogni volta che subite una ferita ci ho andato a mettere un token sopra. Quando vi rimangono soltanto ferite rosse, il personaggio è meno mato ed ha meno un dado a tutte le azioni. Quindi uguale spiccicato come Dungeon Saga. Equipaggiamento, più varie abilità che ha, la Prodezza. La Prodezza è l'abilità che potete usare una volta per partita. Quindi una volta, che è una cosa potentissima, una volta che l'avete usata è finita. Stessa cosa un personaggio da corpo a corpo che vedete invece è molto più forte. C'ha più resistenza anche perché ovviamente ti deve arrivare in corpo a corpo. Quindi magari prima che ci arrivi gli hanno già sparato e gli hanno fatto 8 punti ferita. Poi c'è caratteristica di movimento. Le caselle di cui si muove per il movimento. I dadi che tira per azioni a distanza. I dadi che tira in corpo a corpo. I dadi che tira invece per l'armatura in difesa. Barra dei punti esperienza. Ogni volta che fate un obiettivo, ogni volta che ferite, anche semplicemente per ogni ferita che fate nemici, dovete mettere uno di questi segnalini qui o ci mettete anche un token sopra, comunque che tenga traccia dei punti esperienza. Perché quando arriverete al massimale dovrete metterci un token e ripartire da zero. Per ogni massimale che raggiungete il token che guadagnate avete la possibilità di comprare abilità. Abilità che sono questo mazzo qui, che vale per tutti quanti i mercenari, e vedete che ciascuna abilità ha un costo. Quindi questa abilità qua su costa a un costo di 9. Questa abilità qui invece ha un costo di 8 e così via. All'inizio della missione nel setup, che lo vedete dal libro delle missioni, fa vedere da dove iniziano i mercenari. Dovete disporre tutti quanti gli elementi scenici che ci sono in gioco. Noi ora ne abbiamo fatto un setup a casa, quindi non è nessuna missione questa qui, è fatta casualmente. E dovete disporre i nemici che sono già presenti sul campo di battaglia. Quindi per il giocatore che fa il Nexus, il Dungeon Master, più le entrate dei rinforzi. Dove ci sono queste frecce verdi vuol dire che sono le entrate dei rinforzi. Mettiamo caso la nostra missione sia farci strada fino a qua giù. Ora ciascun personaggio all'inizio del proprio turno ha un'azione. Prima si muovono tutti i mercenari, poi si muove il Nexus. È sempre così, se avete due mercenari muovete due mercenari, se ne avete quattro ne muovete quattro. Comunque di solito, come ve lo dice il libro della missione, avete quattro azioni. Anche se avete meno di quattro mercenari. Capitano missioni che avete magari due mercenari e comunque quattro azioni. Quindi vuol dire che per ogni mercenario potete fare due attivazioni. Ciascun mercenario si muove del suo valore di movimento, quindi nel caso lui si muoverebbe di 6. E vedete le caselline sono, è diviso tutto quanto in caselle, con questi asterischi bianchi ai vari angoli. Quindi magari lui potrebbe fare un'azione 1, 2, 3. Che si può ovviamente muoversi sia in diagonale che anche ortogonalmente. Se vi volete muovere in diagonale però le caselle ortogonali devono essere libere, non occupate. E lui muovendosi qui la prima azione che potrebbe fare è quella di usare il terminale. Ci sono delle missioni dove per forzare un terminale dovete fare una prova di hacking. Quindi dovrete fare un tot di tiri di dado. Andate a tirare i dadi, che quelli rossi sono d'attacco e quelli blu sono per la difesa invece. E magari vi dice fate un successo per hackerare il terminale. Tutti quanti gli elementi scenici che vedete in gioco, almeno che la missione non vi dica qualcosa di differente, ma nel 99% dei casi si possono rompere. Quindi sia in corpo a corpo che a distanza. Lui se non riesce ad aprire e a creare la porta col terminale, lei potrebbe spararci con la sua azione, fare un punto ferito alla porta e proprio toglierla dal gioco. Comunque nella maggior parte dei casi basterà andare a determinale oppure avvicinarsi, fare un'azione per aprire la porta. Il gioco come Dungeon Saga va sempre in visuale. Quindi dove guarda il personaggio, questo è il suo campo visivo, ovviamente, e anche lateralmente. Dietro il personaggio non vede. È uguale, spiccicata come in Dungeon Saga, se vi attaccano dal fronte, tireranno i propri dadi. Se vi attaccano alle spalle, voi avrete meno un dado in difesa, perché ovviamente siete stati colti alla sprovvista. Stessa cosa se invece un personaggio da corpo a corpo dovesse finire in corpo a corpo con due o più nemici, e quindi i nemici hanno la superiorità numerica, lui perderà invece un dado. Nelle sue azioni, perché è in inferiorità. Stessa cosa se il personaggio fosse menomato, quindi come vi ho detto sulla sua scheda rimangono soltanto punti ferita, caselle rosse, non più quelle verdi, tirerà sia un dado meno in attacco che in difesa. Quindi avrà in tutte le situazioni meno un dado. Come vi ho detto, ciascun personaggio ha un'azione e il movimento è gratuito. Quindi chiunque si può muovere una volta del suo movimento e poi può sparare. Quando si va a sparare ci sono gittate corte, per le armi a corta distanza, e gittate lunghe per fucili d'assalto e cose del genere. Bisogna sempre avere la visuale, perché se il personaggio dopo il movimento lo girate così non può sparare di qua. Ovviamente potrà sparare solo nell'arco frontale. Si vanno a misurare le distanze, prima si dichiara il colpo, poi si mette ovviamente la distanza, se la distanza arriva sul bersaglio li si spara. Ora, se il bersaglio è in copertura parziale, guadagna più un dado, perché ovviamente ha una difesa sua davanti che va a bloccare il tiro. Ma se questo personaggio invece di una cassa di un barilotta avesse avuto un elemento scenico che lo va a coprire tutto quanto, il tiro non era possibile. Però il personaggio poteva dire, ok, lo distruggo questo mobile se ce la faccio così da toglierti la copertura. Ovviamente queste casse, non in tutte le missioni, ma nella maggior parte, possono anche essere aperte con un'azione per andare a pescare direttamente dal mazzo dei rifornimenti, oppure sarà proprio la missione a dirti cosa troverai lì all'interno. Perché vedete ci sono anche mazzi di bonus missione e mazzi di oggetti rari. Quindi se la missione ti dice precisamente cosa trovi lì dentro, è il nexus che te lo dà, se no vai a pescare dal mazzo di rifornimento. Anche qui, banale dirvi, se fate un attacco a distanza tirate i dadi a distanza, se fate un attacco in corpo a corpo usate i dadi da corpo a corpo. Quindi lui, se va in corpo a corpo, per farvi un esempio, i risultati sui dadi sono tutti differenti. Non vogliono dire niente a livello di regole. Ci potrebbe essere l'unica volta una regola che ti dice per sfondare un terminale o hackerarlo, magari ti serve che esca un successo critico con un punto esclamativo. Ma nella maggior parte dei casi, voi tirate e dovete poi dopo abbinare i dadi della difesa del nemico. Quindi il nemico, che ha le sue carte, a meno che non siano boss, che hanno delle carte vere e proprie con abilità come uguali spiccicati i mercenari, va a prendere la scheda del marine, dove anche qui c'è scritto il movimento, i dadi che tira a distanza, i dadi che tira in corpo a corpo, i punti ferita in fondo, quindi questi marine ne hanno due, e i dadi che tira in difesa. Quindi va a prendere i suoi dadi blu e li tira. Tirando questi dadi ha avuto relativamente sfiga, anzi molta, perché come vedete questo non c'è niente, non pare a nulla. Questo col punto esclamativo può togliere questo col punto esclamativo, però anche qui ci sono vari valori, perché il dado più alto è sempre quello col punto esclamativo, quindi toglie dal punto esclamativo in giù. Potrebbe togliere questo, potrebbe togliere questo, o potrebbe togliere questo. Ad esempio, uno scudo così potrebbe togliere questo, o potrebbe togliere questo. Uno scudo vuoto potrebbe togliere invece soltanto questo. Nel caso, come già è venuto prima, col punto esclamativo decide di togliere questo qui, però questi tre rimangono. Quindi le tre ferite passano, il nemico è rimosso, e automaticamente Wrat prende due punti esperienza per il livello di ferite che ha fatto al nemico. Andando a fare un'azione invece a distanza, uguale lei va a tirare i suoi dadi da distanza, che sono quattro. Questo non ha fatto niente. Il nemico in difesa, essendo un Marine, tira sempre i soliti due. Però vedete, in questo caso, visto che ha una copertura, qui ne tira uno in più, quindi ne tira tre. Quindi sono tre dadi a segno contro tre dadi, di cui uno non para. Boh, che scudo che c'ho. Uno non para, e uno fa un punto esclamativo con cui può togliere praticamente tutto, toglie questo. Però comunque due ferite sono passate, il Marine nemico è morto e ha guadagnato, ha fatto due punti feriti, ha guadagnato due punti esperienza. Quando arriva la fase del Nexus, il Nexus ha un mazzo di carte, che sono queste qua giù, che sono divise per livello. Livello 1, quelle di partenza, livello 2, le intermedie, e livello 3, quelle potenti. Ovviamente è il mazzo che va mescolato tutto insieme. In più ha questo mazzo nero, che sono carte evento, e vanno mischiate tutte insieme col mazzo Nexus. Perché quando mescola il mazzo ed esce una carta evento, quella va giocata subito. Lui deve bloccare il gioco e metterla in campo. Subito non può decidere di giocare al notturno successivo. Mentre invece tutte le altre carte del livello 1, 2 o 3, vedete, hanno delle abilità sopra. Quindi lui può fare tre cose con queste carte. Può, o a parte ne può tenere tre in mano, eh. Lui all'inizio del turno deve pescarne fino a che non ne ha tre in mano. Può o giocare all'abilità che c'è scritta sopra, magari da un bonus o da un malus tra gli altri giocatori. O magari invece può scartarla direttamente, può scartare una o più carte per usare il valore dei rinforzi che c'è scritto qua sotto. Quindi nel caso scartasse una da due, una da due e una da uno, come vedete qui, avrebbe fatto in tutto cinque punti rinforzo. E i punti rinforzo si fanno, si utilizzano per far entrare altri soldati da queste parti. Quindi riandando a prendere il marine che è appena morto, vedete che ha un costo di tre qua su in cima. Quindi lui potrebbe spendere quei cinque che c'ha per far entrare un altro marine qua giù. Poi gli avanzano due punti, con quei due punti non ci fa niente e vanno persi. Quindi altrimenti può scartare le sue carte che ha in mano e per ogni carta che scarta può far rifare un'azione a un altro personaggio. Quindi quel personaggio lì, ovviamente del Nexus, si può muovere e riattaccare. Quindi come detto le può usare in queste tre maniere. Ci sono anche sia mostre che personaggi che possono utilizzare poteri psionici, quindi hanno il loro mazzo. E ragazzi, il gioco è tutto. Dover fare la missione, ovviamente il Nexus però ha delle limitazioni. La missione magari ti dice, te per turno non puoi far entrare più di tot nemici. E te lo dice, perché se no entrerebbero sempre i nemici. Un fintempo ammazzare ne enterebbero di nuovi. E in più ti dice quanti ne puoi muovere. Perché magari ti dice che può muovere due nemici, questo ad esempio da corpo a corpo, due nemici, due suoi NPC per turno. Però ancora una volta, giocando la carta può riattivarne uno che si è già mosso. Quindi anche se questo ha già fatto le sue azioni, ha aperto la porta ed è arrivato qui, può usare altre azioni scartando una carta per venire avanti. Con l'unica limitazione è che ciascun NPC non può essere attivato più di una volta tramite le carte. Quindi non le può sprecare tutte per fargli fare tre azioni. Questo non lo può fare, la limitazione c'è sempre. Un'altra cosa molto carina che mi è piaciuta da morire in questo gioco è che lo possano fare sia gli NPC che i personaggi. Se un NPC finisce il suo movimento in copertura, perché vedete è dietro un angolo, quindi linea di visuale non c'è, perché proprio non lo vede, nemmeno con la gittata lunga, non può essere attaccato e lui alla sua volta non può attaccare. Però può decidere con un movimento gratuito, anche se è in copertura, di dire ok in questo turno sparo, mi sporgo, c'è la regola di sporgersi, guarda la visuale e spara. Ovviamente una volta che hai fatto così, ti sei messo per sporgerti e tornare indietro, non può rifare il movimento e rimetterti in copertura. Devi aspettare comunque il tuo turno per farlo. Però lo puoi fare. E ci sono alcune carte del Nexus che invece vanno usate per interrompere le azioni dei giocatori nel loro turno. Ad esempio un'azione molto bellina che c'è in una carta del Nexus è quella di fare arrivare il buio. Saltano tutte quante le luci, rimane tutto quanto, accecato tutto quanto buio che ci sono, vedete, i token di buio, che hanno un raggio d'azione di 3 o anche più a volte, quindi riescono a prendere veramente varie zone intere del complesso. Ed è veramente bellino perché intanto la visuale viene ridotta, quindi non puoi sparare a lunghe cittate perché la visuale è ridotta al buio. E in più il tuo personaggio da come è indirizzato dovrà per forza, visto che si muove a tastone alla cieca, dovrà per forza muoversi in linea retta verso dove sta vedendo. Ad esempio se questo personaggio fosse girato così e nel turno dopo volesse muoversi farebbe così, poi arrivato qui sente che c'è il muro, lo puoi ridirezionare come ti pare, però ricordatevi che lo potete direzionare soltanto in una direzione ortogonale o in una diagonale, nel caso si muoverebbe così dopo e quindi è una regola molto molto bellina. Ragazzi poi il gioco non vi sto a far vedere tutto quanto perché veramente, cioè vedetevi il video che ho fatto di Dungeon Saga, è Dungeon Saga. Uguale, c'ha delle cosine in più ma il funzionamento e il meccanismo è sempre lo stesso, però questo ha molte più cose secondo me, ha molte più regole, e poi vabbè, piccole figate che ci sono, il classico piattellone, guardate qua da Warhammer 40.000 per i lanciafiamme, che addirittura quando spari con lanciafiamme ha una figura che è dietro un elemento scenico, non gli dà copertura perché l'elemento scenico viene sciolto giustamente insieme a chi c'è dietro, poi addirittura abbiamo anche delle cariche sismiche, guardatela, è tutto rappresentato in 3D in questo gioco, e poi che fai, un celematico hanno anche la sua carta, le Sentry Gun tipo Alien. Ragazzi, è una figata e in più questo gioco ha anche la bellezza di tre espansioni, più tutti quanti altri pack che inseriscono altri personaggi, altri mostri, c'è anche una missione, scusate, una campagna di un'espansione tutta quanta ambientata sott'acqua, tipo Deep Madness, e la prossima cosa è compro di questo gioco, voglio quella, in più anche i personaggi sono molto diversificati, che ci sono da corpo a corpo, da distanza, e addirittura anche i robotini ed androidi, quindi ce n'è veramente ragazzi per tutti, e poi c'è, guardate la bellezza anche dei boss, dei nemici che è andata a combattere, cioè guardate lì che popò di creature c'è dentro a questo gioco. Ragazzi, è un fottuto spettacolo, è veramente bellissimo. Dunque, come avete visto, le regole si contano veramente su una mano. Due, se proprio volete usare anche quelle più opzionali che ci sono all'interno del regolamento, però tante cose, il regolamento stesso vi dice, c'avete le regole, già a metà manuale, c'avete le regole per giocare, giocate, poi se viene fuori una regola in più, non le tenete tutte a mente ed è giusto. Cioè, se c'è uno stordito, se c'è un danno da fuoco, se c'è altre cose, non le tenete a mente. Quando serve, perché magari saranno anche rari casi di queste condizioni che capiteranno, andatela a leggere direttamente sul manuale. Ora, la modalità cooperativa è bellina, però secondo me la modalità col Nexus è molto 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 più bella, perché ti dà quel tocco di imprevedibilità che non puoi mai sapere. Cioè, ti puoi creare tutte le regole del mondo per spostare mostri come attaccheranno, carte evento, carte intelligenza artificiale, ma non arriverai mai a emulare veramente il cervello umano per le mosse che ti puoi fare. Ti immagini dall'altra parte un Nexus che si è pensato tutto al millimetro e nel momento giusto veramente ti fa un paiolo così e perdi assolutamente la partita. Quindi ci sta, è veramente bello, ma secondo me il massimo, il massimo lo dà giocato uno contro uno. Quindi col Nexus dall'altra parte. Le regole, ragazzi, sono la più grande cavolata sulla faccia della Terra. Si basa tutta ancora una volta sul tiro dei dadi, paragonare i dadi e vedere cosa toglie cosa e per ogni danno che passa è un punto ferita. Quindi, ragazzi, è un gioco veramente veramente facile. Se le devo dare un voto a Star Saga, le do assolutamente un bel 9 su 10, perché per me tutto quello che deve fare lo fa, lo fa egregiamente, è un grandissimo tributo a Star Quest come Dungeon Saga, lo è Hero Quest. Quindi sono riusciti veramente a fare quello che si erano prefissati di fare la Mantic e tradotto anche bene. Ci ho trovato, onesto e sinceramente sempre, ci ho trovato un pochino, un bel po' di errori nel manuale proprio di grammaticali nella traduzione delle MS edizioni, però vabbè, ragazzi, sono cavolate. Chi se ne fega. Il manuale è scritto bene, è elencato bene, è spiegato bene, poi è pieno zippo di figure di riferimento. Quindi comunque è facile, le missioni dentro sono tante, la rigiocabilità è alta, soprattutto col fatto che il Nexus è un altro giocatore, se giocate con la modalità PvP, e quindi vi darà molti errori di gioco e poi non parliamo del casino di miniature che ci sono dentro, elementi scenici in 3D. C'è la Mantic dentro, un ci ha messo il cartoncino per fare la porta, un ci ha messo il token per rappresentare il tavolino, ci sono davvero bellissime elementi scenici che poi puoi usare anche per tantissimi altri giochi, ad esempio io e mia moglie li useremo anche per giocare, a Warhammer 40.000, Kill Team e Necromunda, magari giochi del genere. Quindi 9 su 10 è meritatissimo, vi ricordo se volete acquistare i vostri giochi da tavolo e i vostri giochi di ruolo, primo link è in descrizione, lo vedete sempre in sovrimpressione, andate su Board Game Discount, negozio con cui sto collaborando ormai da un mesetto, trovate sempre i migliori prezzi sul mercato e in più hanno il catalogo sempre aggiornato, pieno zippo di novità e potete pagare anche giochi a rate. Quindi primo link è in descrizione dove acquistarlo, più tutti quanti i nostri social a seguire. Fatemi sapere con un commento se l'avete provato e cosa ne pensate, ma se cercate un gioco vecchio stile alla Star Quest, ragazzi, non ve lo fate scappare, è un gioiello veramente. Ciao ragazzi, alla prossima!